Buongiorno ragazze, oggi siamo al secondo giorno della terza settimana di Bikini Bodyguide Non ho registrato il primo giorno, che è praticamente lunedì, perché ero troppo presa Gli esercizi li ho fatti, gli esercizi per le gambe Però se dovevo stare lì anche a montare la videocamera con il cavalletto alla giusta altezza Davvero non finivo più e ho preferito farli ma senza registrare niente Tanto non ho fatto chissà cosa Invece appunto oggi è martedì e siccome è uscito uno spiraglio di sole sono andata a camminare con Buddy E siamo appena tornati Allora, che dire, ovviamente è andata bene, a me piace camminare quindi è andata bene Ho usato il nuovo completino che ho preso alla Declaton ed è fantastico, mi piace davvero tanto Invece, allora, stamattina ho mangiato qualche biscotto, le tenerezze Che se non conoscete questi biscotti è meglio per voi perché se iniziate non finite più Sono qualcosa di stupendo, sono buonissimi E quindi vi consiglio che se non li conoscete non andate a prenderli, a provarli Perché sarete in un incubo senza fine perché sono troppo buoni e uno tira l'altro Però devo dire che colazione a me non è che vi piace tanto farla E le volte che la faccio la proprio caccio giù a forza Perché non so, ma a me la mattina non viene fame E quindi non mi viene da mangiare Ditemi se comunque faccio bene magari a mangiare qualcosa Anche se davvero lo caccio giù a forza perché proprio non mi viene fame E niente, invece a mezzogiorno ho mangiato una pasta Salmone e pomodoro Ieri sono andata, non ho fatto niente di particolare appunto Sono andata principalmente dall'estetista E ho fatto appunto gli esercizi Dall'estetista che non so se vedete dal video Ma qua sono rossa Adesso l'ho coperto un po' col fondotinta Però ero rossa lunedì Perché mi sa che mi deve aver bruciato con la ceretta Perché non ho altre spiegazioni Infatti un po' mi brucia Ieri mi bruciava tantissimo Però non ho sentito il bruciore fin da subito Cioè non è che appena me l'ha messa ho sentito male Ho sentito il bruciore Ma solo una volta arrivata a casa Appunto sentivo questo fastidioso bruciore Sono andata a guardarmi allo specchio E in effetti ero rossa E quindi non lo so Non mi era mai capitato sinceramente E quindi boh E' andata così E niente, io non so che altro dirvi Ora andrò a fare la doccia Poi mangerò appunto E niente, noi ci vediamo domani Ora si cena con il nasello L'acqua pazza e i pomodorini Vediamo come viene Finito Buongiorno ragazze Oggi è il quarto giorno della terza settimana Di Bikini Body Guide Ieri, che era mercoledì Ho fatto un video a parte Un vlog a parte Perché appunto sono andata a visitare Il parco Sigurtà E quindi ho voluto fare un vlog a parte Appunto Perché sennò includerlo in questo video Qua sarebbe diventato troppo lungo E quindi ve lo linko da qualche parte qui Perché comunque penso di Averlo pubblicato prima di questo Probabilmente E quindi praticamente Mercoledì sono stata via tutto il giorno Appunto Sono stata in questo parco E quindi ho camminato tanto Quindi si potrebbe considerare anche un liss E invece oggi appunto Andremo a fare gli esercizi per le braccia I miei odiati esercizi per le braccia Aggiungerei E allora Stamattina non ho mangiato niente Perché Ormai lo sapete Io non è che ho fame La mattina E quindi Tendo a non mangiare niente Invece a mezzogiorno ho mangiato Il vitel tonnato E niente Iniziamo a fare questi esercizi Che così ce li leviamo Iniziamo a fare questi esercizi Buongiorno ragazze Benvenute al quinto giorno Della terza settimana Di Bikini Body Guide Come vedete Sono già all'opera A camminare A fare il liss Di oggi Perché Comunque Ci sono andato abbastanza presto Perché Il tempo Non promette nulla Di buono Ok Ho finito la passeggiata L'ho fatta Appunto A passo abbastanza veloce Perché pensavo Andasse a piovere Perché il meteo Diceva che oggi Doveva piovere Invece Secondo me Si sta aprendo Perché C'è molto più sole Rispetto a prima Quindi Non so Ormai è andata così Però Secondo me Se andavo a farla Anche più tardi Non cambiava niente E quindi È andata così Comunque è andata bene Sapete che a me piace Camminare E tutto il resto Quindi Non sto a ripetervi Le stesse cose Che vi ho già ripetuto Vi volevo dire Ecco Che gli esercizi I workout Praticamente Gli esercizi per le braccia Gambe e addominali Della terza settimana Cioè di questa Sono gli stessi Della prima settimana Mentre gli esercizi Della seconda settimana Sono gli stessi Della quarta settimana E poi Dalla quinta Si cambieranno Però appunto Le prime quattro settimane Hanno questi esercizi In comune Quindi lunedì Di questa settimana Non avete visto Gli esercizi Per le gambe Però li trovate Nella prima settimana Che trovate comunque Nell'infobots Se magari volete Vederne alcuni E niente Io ora Penso che Andrò a farmi Una doccia E mi guarderò Masterchef Almeno Gli ultimi minuti Che riesco E poi Niente Noi ci vediamo Domani Perché tanto Non farò niente Di particolare Ora Dato che Appunto Dovevo fare solo il liss E niente A domani Buongiorno Benvenuta Al settimo giorno Della terza settimana Di Bikini Body Guide E appunto Oggi è domenica E Ho già fatto gli esercizi Infatti È per questo Che mi vedete Conciotta così Perché ho appena finito Di fare gli esercizi Che voi Invece Vedete ora Per questo È un'immagine È un'immagine Per questo Per questo È un'immagine in teoria questi esercizi li avrei dovuti fare ieri che era sabato però sono stata via tutto il giorno sono tornata a casa verso le 7 e mezza 8 ed ero stanchissima e quindi proprio non c'avevo voglia non avevo neanche le forze di mettermi lì a fare gli esercizi e quindi li ho saltati a oggi anche se oggi è una bellissima giornata infatti c'è il sole e fa caldo quindi avrei preferito andare a camminare a fare un altro lissa anche se non avrei comunque dovuto perché secondo il programma prevedono solo 3 lissa a settimana e quindi oggi sarebbe giorno di riposo però se avrei fatto gli esercizi ieri, quelli per il corpo, sicuramente sarei andata a camminare perché è davvero una bellissima giornata però sembra che lo faccia apposta, quando ho il liss o piove oppure c'è il nuvoloso e fa freddo invece quando devo comunque o fare gli esercizi a casa oppure non ho tempo di fare il liss c'è il sole, infatti anche ieri c'era il sole e si stava bene però appunto non ho avuto tempo sembra davvero che lo faccia apposta, io non so se capita solo a me ma è sempre così il tempo contro di me comunque appunto oggi gli esercizi che riguardavano tutto il corpo sono andati bene come vi ho detto anche nei scorsi giorni gli esercizi di questa settimana sono identici a quelli della prima però ho trovato dei miglioramenti nel senso che sono riuscita a farli meglio e più veloce rispetto alla prima settimana appunto e anche il respiro comunque lo avevo ancora rispetto alla prima che ero proprio cotta, cioè che mi avevano sfinito invece comunque sono rossa perché ho sudato però devo dire che non mi sento tanto stanca ecco soprattutto ho trovato che per gli esercizi delle gambe riesco a farli meglio e anche restare nel tempo previsto i 7 minuti previsti praticamente anzi a volte finisco anche prima dei 7 minuti invece il mio problema restano comunque le flessioni non tanto adesso, non tutti gli esercizi per le braccia ma in particolare le flessioni ne riesco a fare 3 di seguito, dopo però mi devo fermare perché appunto non ci riesco più non riesco più a tirarmi su davvero però per il resto è andato meglio rispetto alla prima settimana invece cambiamenti estetici ancora non li sto vedendo proprio forti cioè non sto ancora vedendo proprio la figura e i segni diciamo del cambiamento però diciamo che mi sto avvicinando e quindi incrociamo le dita e niente, questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto noi ci vediamo la prossima settimana, ciao!